Qui abbiamo una paziente che è affetta da un'artrite reumatoide, che sta facendo delle cure sistemiche, ha avuto da alcune settimane una tumefazione al gomito. Il gomito è già stato aspirato per essere sicuri che non ci fosse un'infezione in corso, l'esame colturale ha risultato negativo, adesso quindi procederemo all'infiltrazione con il cortisone che ci permette appunto di controllare e spegnere l'infiammazione a livello locale. Per quanto riguarda il gomito, si palpa con il dito la rimarticolare, adesso mi disegno, questa è la parte distale dell'omero, questo è il radio e in questa zona c'è un punto di minore resistenza che è il punto in cui verrà infisso l'ago. Non ci sono delle strutture dei nervi sottostanti a cui porre particolare attenzione, nel senso che il nervo onnare passa in tutt'altra posizione, si procede di solito comunque a un controllo ecografico per la conferma di quello che si è visualizzato. Ampia detersione della zona, del punto in cui infiggere l'ago. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.